Lo sviluppo della società umana è intimamente legato ai materiali. Usiamo infatti i materiali per definire le tappe della nostra storia. L'età della pietra, del rame, del bronzo, del ferro. Pensiamo all'ascesa di computer, smartphone, celle solari. Tutto questo è in ultima analisi riconducibile ad una classe di materiali, quali i semiconduttori ed in particolare il silicio. Possiamo quindi definire la nostra epoca come l'età del silicio. Le sfide della nostra società nei settori della transizione energetica, del digitale, della medicina e dell'agroalimentare passano dai materiali. Immaginate di progettare nuovi materiali per celle solari, batterie, sensori biocompatibili o computer quantistici. Oppure materiali ultraleggeri ma resistenti per automotive o biocompatibili per applicazioni biomediche. O ancora materiali ecocompatibili e sostenibili per uno sviluppo che non alteri l'equilibrio del pianeta. Per accedere al corso di laurea dovrai superare un test tool key e iscriverti al corso come previsto dal bando pubblicato sul nostro sito. Il corso è ad accesso con numero programmato. Studierai la progettazione e realizzazione di nuovi materiali. Per farlo si parte dalla conoscenza della struttura dei materiali, dalla scala atomica a quella macroscopica e delle loro proprietà fisiche e chimiche. Il corso di laurea in scienza dei materiali all'Università di Bologna ti permetterà di acquisire queste conoscenze integrando aspetti sperimentali e teorico-computazionali. Negli studi ti accompagneranno i docenti di tre dipartimenti del nostro Ateneo. Il Dipartimento di Fisica e Astronomia, il Dipartimento di Chimica e il Dipartimento di Chimica Industriale. Questa collaborazione è unica nel panorama italiano e ti permetterà di studiare in un ambiente realmente multidisciplinare. Il corso ti fornerà una solida formazione scientifica tra Fisica, Chimica e Tecnologie Industriali. Il primo anno studierai Matematica, Fisica, Chimica, Informatica assieme a corsi caratterizzanti trasversali che introducono la scienza dei materiali. Dal secondo anno entrerai in contatto con la Chimica Fisica dei Materiali, lo studio della teoria quantistica della materia, le tecniche di caratterizzazione sperimentale dei materiali e le tecniche di Data Science e analisi di grande quantità di dati. Tutto questo lo potrai fare nei laboratori dei tre dipartimenti dell'università, dotati di tecnologie moderne e avanzate. Al terzo anno acquisirai competenze di modellistica, progettazione e sostenibilità dei materiali. Potrai svolgere il practicum in cui metterai in pratica le tue conoscenze attraverso un'esperienza diretta nei laboratori dei gruppi di ricerca dei tre dipartimenti. Questa è un'esperienza unica offerta dal nostro corso di laurea. Infine potrai svolgere un tirocinio o all'interno dell'università o un'azienda e denti di ricerca, sviluppando lo studio di uno specifico argomento nella scienza dei materiali, che ti porterà direttamente alla discussione della prova finale. Dopo la laurea potrai o entrare nel mondo del lavoro oppure proseguire con gli studi. Lavorerai presso aziende che si occupano di progettazione, produzione e caratterizzazione dei materiali per settori strategici della nostra società. Oppure potrai decidere di completare la tua formazione nella futura laurea magistrale in scienza dei materiali o in uno dei corsi di laurea magistrale offerti dai dipartimenti di fisica, chimica e chimica industriale. Studiare scienze dei materiali all'università di Bologna ti darà la possibilità di far parte di un ateneo tra i migliori delle classifiche universitarie internazionali ed il più antico del mondo occidentale. Ti aspettiamo a Bologna all'Alma Mater!